Ciao, sono Valerio Novara. Oggi parliamo di Era Ora, film con Edoardo Leo che potete trovare su Netflix e che è già saldamente in testa alla classifica dei film più visti, nella top 10 dei film più visti su Netflix fin dalla data d'uscita in una settimana ha conquistato spettatori sia italiani che non diventando il film più visto su Netflix in lingua non inglese. Una bella soddisfazione per un film italiano che ho apprezzato tantissimo e di cui vi vorrei raccontare spiegandomi anche un po' l'originalità, la trama senza fare spoiler e quindi senza svelarvi il finale del film ma cercando di andare ad analizzare quali sono i punti di forza di questo film che comunque ha un attore protagonista Edoardo Leo, l'altra attrice co-protagonista se vogliamo è Barbara Ronchi che ho apprezzato tantissimo anche la sua interpretazione e che si rifà ad un film del 2021 australiano che era passato un po' sotto traccia e che parla di un uomo che quarantenne durante il suo compleanno di 40 anni la sera va a dormire e la mattina si sveglia quando è il suo compleanno di 41 anni e ogni volta si risveglia che è passato un anno e lui non si rende conto e non si ricorda tutto ciò che ha fatto nell'anno precedente. Ma andiamo con ordine. Il film è ambientato in questa casa, in questa vita, esplora la vita di un ragazzo e la prima scena è stata molto divertente. Il film inizia con una citazione di Winnie the Pooh, la prima scena è molto divertente perché lui va a questo capodanno, inizia addirittura diversi anni fa la prima scena e lui va a questo capodanno cercando la fidanzata. Si sbaglia e vede una ragazza con lo stesso vestito della fidanzata, insomma stanno tutti brindando e augurandosi buon anno. Lui bacia questa ragazza e poi si rende conto che non è la sua fidanzata. Si scusa e dice oddio c'hai lo stesso vestito della mia fidanzata, arriva lei e insomma la sua vera fidanzata si arrabbia, gli dà uno schiaffo e se ne va. E con l'altra ragazza, quella che aveva baciato, però si vede subito che nasce un qualcosa, un feeling. E la scena successiva ci proietta appunto a quando i due sono già andati a vivere insieme. Lei fa la pittrice, le piace l'arte e le piace dipingere i quadri e si firma con un timbro che le ha lasciato il papà e che sarà la sua firma per tutta la sua carriera artistica. E i due insomma vivono insieme, quindi quasi per caso si sono conosciuti, con uno scambio di persona. Questa situazione mi ha ricordato molto l'incipit della serie This Is Us che potete trovare su Disney Plus e che esplora la vita di tre persone nate lo stesso giorno insomma e fa vedere anche con questi salti temporali come le cose si evolveranno nel tempo per questi tre fratelli. Ma torniamo un attimo a Era ora. Era ora che uscisse un film italiano del genere. Fatemelo dire anche perché insomma è un film che ti tiene incollato fino all'ultimo minuto a guardarlo e che si fa ben guardare e che non deve inventarsi niente di clamorosamente cinematografico. È un film che parla del tempo e della consapevolezza che abbiamo del tempo ma lo fa in un modo semplice, conciso, diretto e anche divertente. Anche perché è una commedia drammatica che non ha bisogno, come dicevo, di inventarsi chissà quale trama, chissà quale intreccio per carpire lo spettatore ma che ci proietta nella vita di tutti i giorni perché tutti possiamo immedesimarci nel protagonista. Dicevo, Viaggi nel tempo è il fulcro della trama e anche l'originalità di questo film perché lui, il protagonista Edoardo Leo, bravissimo, sempre più bravo. Io vi consiglio di guardare pure Lasciarsi un giorno a Roma che sta sempre su Netflix che è molto bello e molto più drammatico e molto più commovente di questo. Però vedo che Netflix sta puntando molto su Edoardo Leo e sta producendo tantissimi film di questo attore che è uno dei più bravi attori italiani nel panorama contemporaneo. Come dicevo, il film di che cosa parla? Parla di questo ragazzo che ogni giorno si sveglia e è passato un anno. Si sveglia sempre nel giorno del suo compleanno, quindi dai 40 anni, quando diciamo le prime scene, vediamo questo compleanno dei 40 anni, in cui lui arriva in ritardo a prendere una porta dal palegname che gli aveva preparato, insomma, arriva in ritardissimo e non ha tempo subito. Noi notiamo che non ha tempo per nessuno. Il suo amico gli diceva, beh, quando ci vediamo, quando siamo un po' insieme, lui dice non lo so perché domani c'ho da fare, domenica c'ho da fare, non so quando avremo tempo. E anche la moglie, insomma, che gli aveva preparato tutta la sorpresa, la festa con i suoi amici, ci rimane male e si vede quando lui comunque è già arrivato in ritardo e che è sempre preso dal lavoro, perché dovete sapere che questo ragazzo faceva l'agente assicurativo in questo grande palazzo di assicurazioni, in questa grande azienda di assicurazioni. La notte, quando i due vanno a letto, insomma, fanno lavoro, lei si traveste da elfo e in questo gioco di ruolo molto divertente e si vede che c'è veramente un bel feeling. Tra i due lui stava al computer a notare pure il fatto che era a letto la sera del compleanno, stava ancora al computer, lei indossa il vestito da elfo di Arwen e glielo dice proprio, dice sono Arwen del Signore degli Anelli e fai di me quello che vuoi, insomma, i due fanno lavoro. La mattina dopo, lui, quando si sveglia, si rende conto che qualcosa dentro casa è cambiato dall'arredamento a, insomma, proprio a come sono disposte le cose, ma nota che la fidanzata ha un pancione e che è palesemente incinta. E vede il calendario e si rende conto che è passato un anno in una notte, quindi è arrivato il giorno del suo quarantunesimo compleanno. Tutto il film si baserà su questo salto temporale di anno in anno in una sola direzione, perché ricordiamo il tempo va in una sola direzione, quindi ho apprezzato anche il fatto che la linea temporale del film fosse sempre e solo in avanti. Si sveglia di anno in anno senza ricordarsi che cosa è successo durante il corso dell'anno e lui, per dire, si ritrova con la figlia che tra l'altro la compagna la chiama Galadriel, altro personaggio del Signore degli Anelli e lui dice ma come Galadriel, ma che nome gli abbiamo dato? Nemmeno si ricordava, si rendeva conto di aver comunque scelto anche lui il nome Galadriel per la figlia. Al lavoro si rende conto un giorno che è diventato improvvisamente il direttore dell'azienda dove lavorava e tantissime cose però gli sfuggono di mano, il tempo che sfugge dalle mani. Ed è proprio su questo, un attimo, che mi vorrei concentrare, che è il fulcro della trama di Era Ora. La riflessione, una delle più grandi riflessioni sul tempo che possiamo fare attualizzandola alla vita frenetica che viviamo tutti noi tutti i giorni. In che modo? Facciamo talmente tante cose, parliamo con talmente tante persone, pensiamo già in avanti a quello che succederà domani, a quello che dobbiamo fare dopodomani, agli appuntamenti che abbiamo, da perderci quello che stiamo facendo nel momento presente. Ed è un grande concetto anche e soprattutto buddista che personalmente mi ha aiutato molto, anche a rendermi conto di alcuni momenti che non stavo vivendo con consapevolezza nel presente. A un certo punto c'è anche un cameo di Ras Degan che è molto divertente, che a un certo punto lui, il protagonista, i due si lasciano e il protagonista incontra il nuovo compagno dell'ex dell'ex fidanzata, dell'ex moglie e Ras Degan diceva una frase, sembra quasi un santone, infatti mi ha fatto molto ridere quando Edoardo Leo chiama chi è questo? Un santone, non si ricordava nemmeno il fatto che si fosse riaccompagnata la sua compagna. E Ras Degan dice non esiste domani, non esiste ieri, ma conta solo quello che fai oggi. Ed è la cosa più importante perché presi da questa vita frenetica ci dimentichiamo addirittura che cosa abbiamo fatto e nei momenti più importanti ci dimentichiamo quello che abbiamo detto e fatto. È una grande riflessione, non è che lui si dimentica, cioè il senso del film, spero che comunque sia arrivato il messaggio. Il senso del film è che a furia di vivere una vita così frenetica non abbiamo più la consapevolezza di quello che stiamo facendo. E a tal proposito vi consiglio di leggere un libro che mi ha aiutato molto, che è del maestro zen Nick Nam Nath, che ce l'ho anche qui, scusate il miracolo della presenza mentale e che è di un maestro zen che può farvi capire ancora di più quanto sia importante essere consapevoli nel momento presente di quello che ci accade ogni giorno. Per esempio, in questo libro c'è un esempio, mentre fai i piatti, fai i piatti per fare i piatti. Cioè non pensare a nient'altro, non pensare a quello che devi fare dopo, perché sarebbe una scusa per aggirare e per trovare una via d'uscita, una scorciatoia, invece di fare quello che concentrarti su quello che stai facendo. E la stessa cosa vale per i nostri rapporti con i nostri figli. A un certo punto il protagonista del film dice ma quanto sei cresciuta, dicendo alla figlia, perché non si era resa conto che il tempo vola. Poi, lo so bene, dopo il matrimonio, dopo i figli, il tempo sembra volare ancora di più, ma è solo nel momento in cui ci si ferma che si vive pienamente il momento presente con consapevolezza e il tempo finisce di fare dei salti e di accelerare. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto, se avete visto il film, e iscrivetevi al nostro canale YouTube, Ciaccheazione, dove tutti i giorni pubblichiamo recensioni, analisi, approfondimenti sul mondo del cinema e delle serie tv. Seguiteci su Facebook e sulla nostra pagina Instagram, Ciaccheazione. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione. Da Valerio Novara è tutto, vi do appuntamento al prossimo video.